bello a tutti ragazzi dello shock team guadiamo shock e kevin shock ben ragazzi bentornati sul nostro canale e oggi siamo qui con un nuovo video su call of duty black ops il nostro call of duty preferito e il più bel call of duty ragazzi in generale perchè è impossibile dire che black ops faccia schifo perchè secondo noi veramente il gioco più bello e il code migliore in assoluto siamo qui ragazzi con una nuova partita dove io userò il mouse e io userò il joystick e io userò anche la tastiera comunque io userò esattamente mi muoverò farò movimenti e andrò a mirare mentre lui farò tutte le altre operazioni quindi sparerà faccerò granate mirerò quindi ragazzi andremo a fare due cerchi di struggi perchè è veterano su new town quindi ci beccheremo dentro il video e speriamo di divertirci insieme e fare un po di culetto i nemici ed eccoci ragazzi su new town cerca e distruggi lui col pad io con mouse e tastiera sembra facile ma non lo è però noi due siamo pro di black ops uno, quindi ora andremo a prendere il comandino il comandino ricordare che non abbiamo ne sa contare perchè ho fatto una cassa del cazzo magari possiamo campeggiare un po' comunque ragazzi guardate per far vedere che veramente stiamo giocando si si guardate guardate io io miro e lui spara io miro e lui spara comunque l'abbiamo già fatto il video aspetta ora ci capiremo qua appena vedi qualcosa ma subito hacker di merda oddio ci sono uccisi da soli parte per il secondo round ora vediamo di non farci fare fuori subito e stiamo qua ancora è impossibile questo qua qualcosa guardate tripla tripla così hacker di merda ma no lei che spara attraverso i muri ma che è attraverso i muri ma no ma no che ne spara attraverso i muri e basta quella pure viene spara attraverso i muri e comandano che altra banda abbiamo già fatto due morti del cazzo ora prendiamo la bomba e ci mettiamo qua voglio vedere se mi uccidono anche qua ora aspettiamo qua stiamo fermi vediamo ce la campeggiamo stiamo fermi qua stiamo fermi qua e tu mira non sparare sempre e ce la lancia una stordente una stordente eccolo la ci ha visto ci ha visto ci ha visto oddio abbassa ti basso ti fermi ecco io ora spara a casa 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 aspetta fermo 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 bravo ora oddio 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 tripla oddio oddio in tre e vi giuro che non ho sparato io ora qua c'è un se vuoi morire passa di qua e sinistra eccolo mamma mia che feed schiaccia vai abbiamo perso due round ma il terzo round abbiamo fatto cinque kill ragazzi in un round oh my god oh my god e vi giuriamo che prossima volta metteremo il telequanto telecamere qui ma ragazzi io non ho sparato non mi ha dato fattuto Kevin ora con calma appoggiamoti per sicurezza meglio metteremo abbiamo il napalm abbiamo il napalm addirittura vai 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 via 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 ok usiamo il napalm addirittura no 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 adesso siamo 2 a 1 per noi ok allora intanto quello la è 10 a 3 eh passa passati lì aspetta c'è qualcuno aspetta 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 dai 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 SI uno è andato uno però due due no uno non accompagna spara piano con calma ecco fermo lì stai fermo lì la lancia qualcosa lancia qualcosa l'ho visto uno lì l'ho visto fermo 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 vai 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 grande sono lì dritto ora bisogna un po' comunque siamo in difesa noi possiamo anche metterci qua e stare tranquilli vai 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 lì c'è la macchina che è sempre un punto buono però ovviamente abbassati c'è uno qua lo sento mamma mia cobra Lascia un'altra Calma calma Allora aspetta Aspetta che mi abbasso No a sinistra Ce ne sono 3 in vita ancora Aspetta piano Con calma E lì a sinistra Salto Aspetta qua c'è la bomba Qua c'è la bomba Qua c'è la bomba Se lo sentiamo arrivare da dietro mi giro Mi gira uno scope E' arrivando qua E' a sinistra Aspetta aspetta Scappa scappa Sii vai Mamma mia troppo forti 10 kg Manca un ai cani Un ai cani Un ai cani Un ai cani C'è camperiamo come non mai Un ai cani Un ai cani Un ai cani Firmo 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 Attento a venire qua su Un ai cani Camperiamo qua su Aspetta 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 Claymore di sicurezza Vai giù vai giù Vai Un ai cani Ah no 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 scappala qua Scappala qua scappala qua Non è una pessima idea Questa qua Un ai cani Un ai cani Ma dovremmo perdere o starò un qua però Se lo perdiamo stanno bene Sono sei loro comunque E' qua giù E' qua giù Cazzo Sinistra No Fermo Fermo Sì No Vabbè E' qua dentro Qua dentro Sta piazzando Sta piazzando Cazzo Cazzo L'ho riuscito al cobra comunque E' in uno E' in uno Morirà subito Morirà presto E grazie a noi L'abbiamo ucciso noi Mamma mia che pro Non c'è andato i cani Ma forse Non avevo i cani Cosa Ah L'abbiamo ucciso uno con Napalm Ecco perché Ah si è vero Mamma Grandissimi ragazzi Li abbiamo distrutti ragazzi Distrutti Easy Easy E ora cambieremo mappa Grandissimi ragazzi Siamo stati dei veterani Ed eccoci ragazzi Sulla seconda mappa Summit La prima è stata Nuketown E' stata qualcosa di epico Abbiamo fatto Non si sa come Abbiamo Abbiamo perso i primi due round Poi li abbiamo distrati I primi 24 di fila E ora Cambieremo classe Andremo con la capozzo Siamo tre contro tre Quindi Comontino Tre contro tre Perché Cerchiamo di spaccare Il nostro server Il nostro ping è alle stelle Il nostro ping è alle stelle Proveremo a Vedere se Riusciamo ad abbassare Cosa ho fatto? Cosa ho fatto? Ok Andiamo Mamma che culo Che riflessi Mamma che culo Bravo Mamma che culo Con il pinga 125 ragazzi Non so se rendo Questo server è in Olanda Questo server Noi siamo in Italia Andiamo Vai dritto Dritto per dritto Dritto da qua Dritto da qua Vai 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 Questo non perdona Niente Niente Spara 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 Niente sparando Porto cà Dove Ah guarda davvero Camperate La fermo L'angelo spawn Invece di andare a piazzare Ti guardavo un po' In giang 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 Camperino Camperino Era tipo Oddio Aspetta 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 Ora bisogna riprovarci Però con la flashbang Vai con la flashbang Vai Vai in un'altra Vai 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 No Perché dice Quando le lancio una Lancio sempre un'altra Abbassati Abbassati qua Abbassati qua Abbassati qua E siamo qua Ma porco Kevin Ma tra l'altro Abbassati lì Si ma se mi avanzavo Non riuscivo a girarmi lo stesso No Ci voglio bannare FK Spawn Ingraduo Replay Yes Ci han buttato fuori Insult Insult Si è scollegato Insult Lizzing E noi rientreremo Siamo rientrati Siamo rientrati ragazzi Ce l'abbiamo fatta Ci hanno insultato Anzi noi abbiamo insultato E ci siamo stati cacciati E ora insulteremo di nuovo Oh Ci siamo vivi Siamo con gli altri Siamo la bomba Abbiamo la bomba Sinistra sinistra Vada la volta a sinistra Oddio sono tutti morti Filmo Camperiamo Camperiamo Stop Aspetta aspetta No 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 Stiamo fermi qua Tanto ci passa Andrà qua Fermo No 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 Ci passa Andrà qua Sono sicuro Ma no Abbiamo sparato Ping 117 Non è possibile Da poi scriviamo Diciamo il suo nome La festa Camperdown Frozen Han Vaffanculo You mad brah Prendiamo la bomba Andiamo a piazzare a sinistra A sinistra Aspettiamo finché non passano No 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 Aspettiamo finché non passano Fermati 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 Aspettiamo finché non passano Se non passano andiamo a piazzare Aspetta Ecco Copra un nemico Ok Piazziamo in velocità Aspetta Premi Ah non posso piazzare io Come no No Vabbè Forse perché C'è lì dietro Mamma mia Bro de nanna Mamma che bro Fermo Fermo qua Fermo qua Mamma No No Fami il dog Abbiamo fatto la pro E giatta Shit face Fucking Lucky Telecom Che la gava No Abbiamo L'abbiamo persa questa L'abbiamo persa E come sempre I più prossimo noi Idiot Idiot Insultateci Insult Ban Mi Ebbene ragazzi L'ultima partita L'abbiamo persa Perché avevamo degli scaldi Ci hanno buttato fuori Poi dopo Se c'erano degli scaldi Ci sono morti subito Ci hanno buttato fuori Siamo rientrati Stavamo spaccato il culo Tutti Abbiamo piazzato Abbiamo fatto una doppia Poi è arrivato il terzo Che siano ingrumati Come La telecom Con la sua manovella Ha fatto così Ha fatto che sicuramente Ci hanno mandato il ping Alle stelle E track Comunque ragazzi La prima partita È stata una casa Epica Epicness Quindi ragazzi Scrivete nei commenti Se volete vedere altre serie Su In vista tipologia Quindi con Diego gioca con il tastiere Ma un senso Io gioco col joystick Magari su un altro gioco O su un altro Con lo duty O qualsiasi cosa Anche Battlefield Comunque ragazzi Però possiamo dirvi Anche se volete Dovete scriverlo nei commenti Però lo faremo Su Modern Warfare 3 Però è ancora più difficile Perché su Modern Warfare 3 Non si può usare Il joypad Almeno noi non lo sappiamo fare Perché siamo dei nabbi Forse non si può O forse siamo anche Non lo sappiamo fare Quindi io dovrò usare il mouse E chiavi la tastiera Oppure viceversa Quindi ragazzi Scrivete questo sotto Nei commenti Chi volete che Usi il mouse Chi volete usi la tastiera Su Modern Warfare 3 Come sempre ragazzi Vi invito a passare Dalla pagina a Facebook Per rimanere sempre sintonizzati A lasciare un like Se il video ti è piaciuto E di seguirci su Google Plus Quindi ragazzi Dalla Show Team è tutto E' bella ragazzi Un solito B-Shock E oggi è assente Yahoo